siamo tutti pazzi ciao a tutti benvenuti al mio canale di willys spluffete in questo momento non c'è ma oggi andremo a presentarvi una piccola chicca diciamo che l'hanno fatta in parecchi l'hanno fatta perché comunque se ci sono state quattro versioni di plant west zombie praticamente il primo quello che andremo a vedere oggi è quello proprio primo 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 piante contro zombie che è stato fatto dove praticamente ci si va a scontrare in questo modo da una parte e dall'altra una parte le piante da una parte gli zombie e praticamente si va si viaggia su sembra 7 8 comunque corsie ci si va a scontrare dove a piazzare le tue pedine le tue piante le tue cose insomma mano a mano che si va avanti si vincono cose nuove come con tutti gli altri giochi però insomma gioco semplice abbiamo giocato anche al primo piante contro il secondo scusate piante contro zombie però non è che era il primo diciamo tridimensionale ma non era tanto beppi che tridimensionale forse era 2d però non vorrei dire una stupidaggine poi il secondo piante contro zombie non era male poi dopo c'è stata la battaglia per neighborville che sarebbe il 3 sarebbe una sostanza l'evoluzione graficamente è molto 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 meglio diciamo che poi è anche molto più diverso come come tipologia non esiste più come nel secondo giardino dove ci sia la battaglia e tutto il resto è un pochettino cambiato comunque rimanete con noi adesso andremo presentarvi il primo primo piante contro zombie mi raccomando rimanete con noi ciao da willys un pochettino Ah! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.